Il narcisista patologico è un predatore che maschera la sua identità mostrando quello che non è. È un manipolatore affettivo che colleziona relazioni multiple per sentirsi sostenuto e rispecchiato. Ha una smania di protagonismo che nasce da un senso di inferiorità, perciò non sopporta di essere lasciato e quindi abbandona il partner per primo senza provare sensi di colpa o di vergogna. Il narcisista soffre di una fissazione alla fase orale che nasce dalla mancanza di empatia nella madre. Il suo atteggiamento seduttivo di tipo manipolativo deriva proprio dalla vulnerabilità alla quale il narcisista reagisce con l'illusione onnipotente di poter controllare sottomettere l'altro. Questa patologia può derivare da cure genitoriali inappropriate, da abuso emotivo, critica o giudizio genitoriale ricorrenti, può derivare da fluttuazione tra idealizzazione del bambino e svalutazione, oppure oppressione ansiosa e aspettative rigide e irrealistiche. In pratica questi bambini, che poi diventeranno dei futuri narcisisti, recepiscono il messaggio che l'essere amati dei loro genitori comporta certe condizioni e quindi non possono essere se stessi, ma devono ricoprire un ruolo innaturale. Poi si identificano nel ruolo imposto per negare la paura di gestire l'insicurezza. Non è un caso se la strategia tipica del narcisista è quella di non voler svelare la propria identità, ad esempio nascondendosi dietro profili falsi. Infatti il narcisista si nasconde per salvaguardare la propria fragilità. Una rappresentazione simbolica estremamente calzante alla psicologia del narcisista è il camaleonte, che riesce a difendersi mimetizzandosi e nascondendosi. Questa facoltà camaleontica del narcisista si manifesta soprattutto nell'arte di incarnare le proiezioni della persona che deve sedurre. In sostanza il narcisista è abile nel vestire i panni dell'innamorato fedele e per questo sceglie con cura le sue vittime, che tendono ad essere persone in buona fede, tendono ad essere empatiche e amorevoli. I manipolatori narcisisti all'inizio si presentano come abili adulatori, riempiono l'altro di complimenti, finché ad un certo punto iniziano a diventare ambigui, diventano gelosi, critici e svalutanti, finendo col tormentare la vittima senza avere scrupoli. Tutte le azioni del narcisista mirano al raggiungimento di obiettivi di controllo e di dominio. Una volta raggiunto il possesso dell'altra persona e una volta che questa sia stata vampirizzata perde ogni interesse e viene abbandonata. Agli occhi degli altri i narcisisti appaiono comunque persone rispettabili, premurose, sempre disponibili e gentili. Il vissuto emozionale del narcisista è caratterizzato da instabilità affettiva, da crolli dell'umore e da una tendenza a cadere in comportamenti distruttivi. In un certo senso il narcisista assomiglia al borderline, che ha un giudizio che oscilla tra polarità opposte, il cosiddetto pensiero in bianco e nero, per cui o sei suo amico o sei suo nemico. Non esiste una via di mezzo. In queste persone si nota una marcata instabilità esistenziale. La loro vita è caratterizzata da relazioni affettive intense e turbolente, che terminano sempre bruscamente. Di conseguenza le relazioni interpersonali del narcisista sono caratterizzate dall'alternanza tra i due estremi di idealizzazione e disvalutazione. Perciò hanno difficoltà a controllare la rabbia, che compare senza motivo ed è spesso accompagnata da una sospettosità di tipo paranoide e da sentimenti cronici di vuoto. L'instabilità è l'unica cosa stabile nel narcisista, in particolare nel narcisista con tratti borderline. In questo caso siamo in presenza di una comunicazione incoerente e contraddittoria. Il narcisista è infatti in grado di affermare una cosa e subito dopo l'esatto contrario. Un giorno valutano positivamente fino a idealizzare una persona e il giorno dopo la svalutano gravemente. Sono in grado di dire ti amo in pochissimo tempo, per poi progettare una vita in comune e dopo pochi giorni di conoscenza fino ad arrivare alla svalutazione totale dell'altro, che viene lasciato alle prime frustrazioni. Tipicamente i narcisisti contrastano chiunque non la pensino come loro e chi non ha seconda i loro desideri, reagendo piuttosto aggressivamente. A questo punto fanno sentire gli altri in colpa, ma questo è un metodo per tentare di controllarli. Non a caso chi vive con un narcisista si sente spesso arrabbiato impotente. Viene sistematicamente svalorizzato e sottoposto ad una critica che non è sostenuta da una serena messa a confronto. Di solito il narcisista lancia la sua frase fatta, come se fosse verità assoluta, e chiude le porte al dialogo. Questo accade anche perché il narcisista ha scarsa empatia. Esistono almeno tre tipi di empatia. L'empatia cognitiva, che riguarda la corretta identificazione delle opinioni e dei sentimenti degli altri. Questa forma di empatia ci permette di assumere il punto di vista dell'altro, capendo fino in fondo il suo pensiero. Poi abbiamo l'empatia emotiva, che comporta il condividere i sentimenti dell'altro. Quando si prova empatia emotiva per il prossimo ci si mette veramente nei suoi panni e questo consente di stabilire una connessione emotiva. Infine esiste una empatia compassionevole, che combina l'empatia cognitiva e quella emotiva, per garantire un reale aiuto all'altro. Ora, il narcisista, non essendo in grado di provare una vera empatia per l'altro, ha una vita interiore povera e vuota. Da qui nasce il bisogno smisurato di attenzioni. Ma i narcisisti non provano un vero interesse verso gli altri, anzi considerano i bisogni altrui come ostacoli per ottenere l'attenzione che pensano di meritare. Quando gli altri parlano di sé, i narcisisti li trovano noiosi e irritanti. Ma quando i narcisisti sono lasciati soli, devono confrontarsi con il loro vuoto, con la loro noia, che li rende un po' distaccati, rigidi e con vedute ristrette. Chi è vittima di relazioni di questo tipo dovrebbe rivolgersi ad un bravo psicoterapeuta per capire come mai tende a rimanere intrappolata in rapporti insoddisfacenti, che hanno tutti però qualcosa in comune. La soluzione, come al solito, consiste nello sviluppare la propria autostima senza appoggiarsi troppo sugli altri. qui è necessario diventare più autonomi e indipendenti, puntando appunto alla valorizzazione di sé stessi. Bene, io mi fermo e vi informo che faccio consulenze psicologiche online, sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche, per cui se volete richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473, scrivendo questo messaggio. Come funziona la consulenza? Indicando il nome, il cognome e i vostri orari preferiti. Mi trovate anche su youtube, dove troverete anche una serie di playlist e 400 video. Mi trovate anche su facebook, dove ho fondato un gruppo che si chiama Psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama La mia psicologia. In bocca al lupo.